Io ho fatto un investimento che mi deve fruttare. Io ti do tre voti a te e tu mi dai tre appalti a me. Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma deve fare l'interesse delle letture, di colui che gli ha dato la fiducia e il voto. Cose d'altri tempi queste. E noi tre ci facciamo una bella papà. Con cittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare. Se io vi dicessi che una volta letto farei costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? Sì! E siete degli incerui. Non potrò fare un cacchio, un cacchio! Non potrò fare un cacchio, un cacchio!